Stefano Candiani, è soddisfatto della relazione del Ministro Bonino sul caso di Marò? Assolutamente no, gliel'abbiamo anche detto poi in aula prima intervenendo. Purtroppo la Ministra Bonino non ha capito la gravità della situazione e cerca di mascherare dietro gli ultimi interventi di queste ultime ore una latitanza che è durata un anno. Purtroppo questa situazione è molto grave perché ha fatto perdere completamente credibilità al Paese e soprattutto ha dimostrato che questo è un governo ed è un Paese che non è in grado di difendere le proprie persone. Addirittura quando sono militari in missione li abbandona in uno Stato che si sta dimostrando totalmente inaffidabile e addirittura pericoloso come in questo caso l'India utilizzando queste persone come moneta di scambio per altre questioni loro interne e per politica internazionale. Che loro stanno facendo? La Bonino purtroppo invece questo non lo sta facendo, lo ha tempo, ormai l'Italia non conta più nulla sullo scenario del Mediterraneo, non siamo stati in grado di avere una politica nostra in grado di distaccare l'Italia dal resto dell'Europa che faceva i propri interessi per quanto riguardava la Libia. Lo stesso è avvenuto ovviamente per quanto riguarda l'India e per altre questioni nelle quali l'Italia non è più considerata. Di tutto ciò avremmo voluto sentire qualche parola, invece una relazione molto piatta, una relazione totalmente vuota ma soprattutto distaccata, non del distacco che caratterizza gli statisti, ma del distacco di chi semplicemente non si interessa di una questione e quindi legge una velina che le è stata passata. A proposito di scambio di baratto, avete con una battuta ironica proposto un baratto dei ministri? Sì, certo, lo avevamo già detto l'altra volta e l'abbiamo ribadito, sia la ministra Bonino e il ministro Mauro, ministro della difesa per quello che sarà il loro tempo ovviamente perché il ministro lo restano ancora per qualche ora, probabilmente il governo non ci sarà più vadano loro, vadano loro in India, facciano uno scambio alla pari, restino là visto che sono così convinti e tranquilli e sereni e facciano tornare a casa la Torre Girone, dimostreranno di essere stati all'altezza con l'aspettativa di chi deve fare il ministro rappresentando un paese. Che cosa bisognerebbe fare secondo lei? Cosa bisognava fare? Oggi quello che si può fare è molto poco, bisogna essere in grado di dire all'India che se questi nostri militari non vengono riportati indietro le ritorsioni, anche ritorsioni economiche forti, anche ritorsioni impegnative se ne possono fare però ci deve essere un governo credibile. Il tempo perso non facilita oggi le operazioni perché la credibilità è un elemento fondamentale un paese che non riesce ad essere credibile in questi aspetti non è credibile neanche in una minaccia di ritorsione.